Musica Ci troviamo nella cucina del ristorante al metro a San Salvo, Marina e prepareremo il brodetto, il brodetto secondo la nostra interpretazione Utilizzeremo del pescato ovviamente, cosa molto importante del pescato locale e ci adattiamo al fatto che non sempre magari riusciamo a trovare tutto e quindi con quello che abbiamo trovato oggi, grazie al mare che abbiamo qui di fronte prepariamo questo piatto di forte tradizione antica e soprattutto di grande rispetto verso il territorio Musica Musica In caso specifico, gli ingredienti e la modalità di preparazione quindi l'olio extravergine d'oliva che viene prodotto nelle campagne qui del Vastese il pomodoro mezzotempo che è un pomodoro autottono antico e in fase di riscoperta attuale molto forte il peperone, il prezzemolo, l'aglio rosso di Sulmona nel caso nostro e ovviamente del pescato di scoglio, del pescato freschissimo appartenente al mare altistante Musica Musica Musica